Anche i consumatori scendono in campo a difesa delle emittenti e radio private che si sono viste tagliare i contributi dell'editoria con il decreto 1000 proroghe varato dal governo e approvato dal Parlamento la settimana scorsa. Coda con Sconf Consumatori e Movimento Consumatori hanno avviato una petizione popolare in Puglia. Mettiamo a disposizione la rete di tutti quanti i nostri sportelli che sono circa una sessantina in tutta la regione. Da un lato sensibilizzeremo i nostri iscritti a firmare questa petizione a tutela della libertà di informazione e dall'altro poi faremo anche degli eventi pubblici. Noi vogliamo che assolutamente il cittadino abbia il diritto di sapere a livello locale quali sono i problemi che toccano la sanità, che toccano i trasporti, che toccano gli ambienti che sicuramente le emittenti a livello nazionale non sono portatrici di problematiche di tal fatta. Questa è un'iniziativa partita dalla Puglia ma che sarà estesa poi a livello nazionale anche perché con questo tipo di provvedimento vengono penalizzate tutte quelle che sono appunto i diritti costituzionalmente garantiti per i cittadini e per i consumatori. Plaudia all'iniziativa delle associazioni dei consumatori l'avvocato Fabrizio Lombardo Piola, presidente di Antenna Sud e del consorzio RTP, l'associazione degli editori radiotelevisivi pugliesi. È un provvedimento inique e legittimo perché incide sui bilanci già chiusi del 2009, ha detto Lombardo Piola. Ieri sulla questione è intervenuto il ministro per gli affari regionali, Raffaele Fitto. Penso che ci sia da affrontare il tema dell'emittenza di televisione locale, come è evidente che ci sia. C'è un voto in Parlamento che penso debba essere oggetto di riflessione di ritorno da parte del governo, cosa che ritengo accadrà nei prossimi giorni. La candidata alla presidenza della Regione Perio Sud, MPA e Udc, Adriana Polibortone, invece ha annunciato una raccolta firme per sostenere una legge di iniziativa popolare a favore del sistema radiotelevisivo locale.